Auguri professore, è proprio il caso di dirlo. L'Università Federico II di Napoli ha festeggiato i 65 anni del rettore emerito Guido Trombetti, attuale vicepresidente della giunta regionale campana con delega all'università e alla ricerca, con una a due giorni di studi matematici che ha visto la partecipazione dei più esimi rappresentanti internazionali della materia. Topics in elliptic e in Parabolic PDS è stato aperto dai saluti del rettore emerito dell'Università Federiciana Fulvio Tessitore, dal rettore Massimo Marrelli e dal pro-rettore Gaetano Manfredi. Commozione e orgoglio per Trombetti, ma soprattutto un volano per un sapere che ha tinto molto dal genio campano. Guardi, la nostra terra, partendo da Renato Caccioppo di Carla Miranda, ha una tradizione straordinaria, le cose di cui si parla qui discendono anche da idee di questi matematici napoletani, quindi è una tradizione grandissima. Pensi che lei che mi parla ed usa il microfono sta usando molta matematica, lei che parla al cellulare usa quasi soltanto matematica, lei che usa una telecamera usa quasi soltanto matematica perché dietro tutti questi strumenti ci sono un mare di equazione e ci sta un mare di capacità di calcolo. Quindi oggi senza la matematica non c'è futuro nell'economia, nella biologia, nelle scienze applicate, nell'edilizia. I matematici per fortuna trovano impiego, trovano lavoro ancora con una certa facilità proprio grazie alla vastità degli interessi che questa disciplina suscita.